Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche, dunque in primo piano la cronaca come leggiamo anche dal nostro sito www.etvmarche.it è stato sorpreso da pioggia e vento e poi una nebbia improvvisa che ha avvolto ogni cosa, un anziano escursionista ieri sera sul Monte Catria nel Pesarese ha perso l'orientamento ed è caduto in un canalone, sorpreso da pioggia, vento e nebbia improvvisa è appunto precipitato, l'uomo è stato poi individuato e soccorso quando ormai era già buio dopo ore di ricerche dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. è stato trovato ferito ma in discrete condizioni a quasi 1400 metri di altezza, è stato poi caricato su una barella come vediamo anche da questa immagine e portato in un'area sicura dopo un cammino di circa 2 km, è stato affidato alle cure dei sanitari e quindi è fuori pericolo. Dunque adesso parliamo di prodotti invece contraffatti e quindi appunto andiamo a vedere quest'operazione della Guardia di Finanza, un traffico Cina-Roma, falsi cinturini, auricolari, 5 denunce. Vediamo. Dal porto di Napoli e dagli scali di Malpensa e Fiumicino la filiera del falso arrivava sul territorio italiano via Roma. Perquisite quattro imprese importatrici nella capitale. L'indagine della Guardia di Finanza a partire dall'intervento in un esercizio commerciale di Ancona gestito da un cittadino di origine bengalese è conclusosi col sequestro di accessori per telefonia di una noto brand statunitense, in particolare cinturini per smartwatch e auricolari contraffatti. Analoghi prodotti erano però posti in vendita e pubblicizzati anche online attraverso appositi siti web e profili social riconducibili ad aziende sempre gestite da cittadini di origini cinesi e bengalese in grado di importare rilevanti quantitativi di merci direttamente dalla Cina. Sono state così avviate più penetranti attività di indagine finalizzata la ricostruzione e disarticolazione di questa filiera del falso che hanno consentito di individuare i canali d'ingresso in Italia dei prodotti illeciti, le modalità di sdoganamento e relativi spedizionieri nonché le imprese importatrici tutte con sede a Roma. All'esito di queste attività nei confronti di quattro imprese importatrici sono stati sottoposti a sequestro all'interno dei depositi e dei cappannoni complessivamente oltre 64.000 accessori di telefonia contraffatti che se messi sul mercato avrebbero garantito agli organizzatori del traffico illecito di conseguire un guadagno per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Al termine delle attività sono stati denunciati a piede libero cinque soggetti di etnia cinese e bengalese per la presunta responsabilità in ordine ai reati di importazione e commercializzazione di beni contraffatti o realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione. Parliamo del terremoto del 9 novembre scorso. Nelle Marche sono numerosi e significativi danni alle chiese dopo le scosse registrate davanti alla costa centrosettentrionale delle Marche con lo sciame sismico continuato anche nell'ultima giornata. A rimarcare le conseguenze del sisma sulle strutture religiose è la presidenza della conferenza episcopale marchigiana, la CEM, che ha fatto una prima raccolta della stima dei danni prodotti dal sisma nelle diocesi di Pesaro, Fano, Ancona, Senigalli e Fabriano. Ci sono diverse chiese che hanno subito danni a Fano, quattro chiese risultano danneggiate seriamente e sono state chiuse, in altre cinque nell'episcopio ci sono danni significativi per la diocesi di Pesaro, ci sono danni significativi alla cattedrale, altre quattro chiese sono state chiuse, ulteriori sei rappresentano danni diffusi pur essendo ancora aperte. Per Senigallia sette chiese presentano danni, tra cui la cattedrale sono state chiuse e sono in corso le verifiche, per la diocesi di Ancona 11 le chiese chiuse dopo un primo sopralluogo, mentre sono in corso verifiche più dettagliate. E parliamo della doppia emergenza che ha investito il nostro territorio, quindi l'alluvione del 15 settembre scorso e poi appunto le nuove scosse di terremoto, quelle che ci sono state a partire dal 9 novembre mattina. Vediamo. Stato di emergenza per il terremoto del 9 novembre, nessuna preclusione spiega Acquaroli rispondendo alla mozione del PD in consiglio regionale, aggiungendo anche che prima occorre però finire la ricognizione dei danni e solo dopo, se la situazione lo richiede, pensare allo stato di emergenza. Il tutto verrà deciso insomma nelle prossime ore. Entro domani infatti dovrebbe arrivare una prima stima dei danni dal comune di Ancona, il più colpito dalle scosse. Dei 51 edifici e locali dichiarati inagibili nella regione Marche, la maggior parte si trova nel capoluogo. A oggi sono 1.873 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza sismica. Di questi, ben 1.309 ad Ancona, 564 invece nella provincia di Pesaro Urbino. Da un'emergenza all'altra, nelle scorse ore il governatore Acquaroli ha incontrato il ministro Musumeci con cui ha parlato di terremoto ma soprattutto di alluvione. Lavorare su mitigazione del rischio, ripristino delle opere pubbliche e sostegno a imprese e famiglie colpite. Questi gli obiettivi, ha spiegato Acquaroli. Intanto però i comuni colpiti preoccupati chiedono interventi economici immediati aiuti subito e non tra due anni. Come sottolinea il presidente dell'Unione Montana del Catria e Nerone ricordando la situazione di Cagli e Cantiano. Non so quanti ma subito, veramente subito sarebbe una cosa importante. Poi benissimo anche l'aiuto della regione con dei fondi che hanno messo a disposizione che si comincerà a pagare fra due anni. Ma è chiaro che serve subito qualcosa di importante. I nostri territori sono territori dove anche il commercio, dove le attività sono gestite spesso da imprenditori di una certa età. E' questa la verità. E' quindi chiaro che un'immediata risposta economica, quindi star vicino a questi imprenditori che devono ricominciare un'attività a 60 anni è importante. Perché gli si crea entusiasmo e lo rifaranno, credo, più forte di prima. E' chiaro che abbandonarli da un punto di vista economico in questo momento equivale a dire far di smettere. Insomma, perché è chiaro che nessuno avrà più voglia di ricominciare. E ora parliamo invece del sisma del 2016. Quindi parliamo delle risorse che ci sono a disposizione. Quindi si sono chiusi con risultati i bandi del programma Next Appennino, destinati alle imprese dei territori colpiti dai terremoti del 2009. Quindi il terremoto dell'Aquila del 2016. A fronte di 615 milioni di euro di agevolazioni messe a disposizione, tra contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, sono stati presentati 2.541 nuovi progetti di investimento da parte delle imprese per un valore di 2,3 miliardi di euro. Tra i progetti presentati, 744 riguardano l'avvio di nuove piccole e micro imprese. Le agevolazioni richieste provengono per il 79,3% dal cratere sisma del 2016, per il 60% dalle marche. La risposta delle imprese, del terzo settore, degli antilocali alle opportunità offerte dai bandi è stata molto importante. Dice Giovanni Legnini, commissario straordinario al Sisma 2016, è un segno tangibile della vitalità del sistema produttivo che ha fiducia nel processo di ricostruzione e crede nella possibilità di un nuovo sviluppo e vuole investire in questi territori. Siamo quasi in chiusura e allora c'è il tempo per rilanciare un altro appuntamento, anzi una serie di appuntamenti verso la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La rassegna ad Ancona, ogni diritto in meno è uno schiaffo in più. Cinque appuntamenti a ridosso appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre prossimo. Si comincia oggi alle 17.30 con l'appuntamento Afghanistan Iran la rivoluzione donna. Il punto con attiviste e testimonianze saranno presenti le donne della comunità afghana e iraniana delle marche, dell'associazione Ahmad, ma anche Saar Salam, attivista irachena che sarà ad Ancona nell'ambito del tour La Voce della Rivoluzione organizzato dalla ONG Un Ponte Per. Questi appuntamenti si tengono a spazio presente Museo della Città e la rassegna organizzata dall'associazione Ahmad e dal comune di Ancona. E questa era la nostra ultima news, io per il momento mi fermo qui, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.